Molte le novità per la prossima edizione della rievocazione storica del Venerdì Santo di Grassina. A partire dalla nuova scena e il discorso della montagna in piazza Umberto I a Grassina. È un messaggio di speranza per tutto il popolo della Terra e quindi crediamo in questo di poter fare un omaggio a tutti i visitatori che ogni anno a migliaia accorrono alla nostra manifestazione. Poi viene rifatta il processo di Erode, adesso che stanno invece parleranno direttamente loro dal vivo. Tutta live e lo stesso anche il popolo che sarà sotto, anche lui sarà partecipe perché alla fine nel processo di Erode il vero protagonista è il popolo. Tra le novità anche una passeggiata di 6 km con partenza dal Bigallo dedicata a tutti i cantastorie. Una escursione sulle colline di Bagnarripoli che partirà il pomeriggio del venerdì 14 alle 15 dall'ospedale del Bigallo. Un grande evento del territorio che racchiude in sé non solo l'emblema della religiosità ma anche un grande momento di aggregazione. Devo dire che non c'è famiglia di Grassina che non si è coinvolta in qualche modo dalle scene, dai costumi, dagli attori di questa grande manifestazione che davvero vede tantissimi figuranti e ne speriamo anche tantissimo pubblico per una nuova edizione 2017.